Mi ami ancora? Posso chiamarti ex? A me, non si può resistere Torniamo assieme e offro la cena Cena di San Valentino con la mia ex Adesso sono davanti a casa sua, la sto aspettando Lei sa che usciamo a cena Ma la cosa divertente è che non sa che io vloggerò tutta la cena Sembra in tre stasera? Posso registrare? No Ah, no, no, a parto di scherzi Essendo che, quanti anni hai? 12 No, no, ma fai serio che YouTube mi vanno al video Quanti anni hai, seriamente? 16 16, questo non è uno scherzo Mi dai il consenso? Sì, ti do il consenso Oh YouTube, mi sta dando il consenso, mi dai il consenso? Ti do il consenso? Andiamo che sennò la pronunzazione scade Andiamo C'è da un bel posto per stasera Ok Siamo arrivati al ristorante Questo flash di merda Ma queste parolacce, ma che te le insegnate? No Ah Kebab Va bene? Buono Andiamo? Andiamo Flash e nemmo Ci siamo sugli al tavolo E già saranno pieni coglioni Cos'è che c'è? No, dai Pianta Non posso vloggare? No Eppure di essere in imbarazzo? No, mi sei sul cazzo Ti sto sul cazzo? No, dai Dai, scegli cosa vuoi ordinare No Smetti Ora mi sono ricordata perché non stavo più insieme Adesso piango No, dai Non parla pesa male Devi parlare più forte Non voglio essere sentita Non voglio essere sentita No Dopo le persone pensano che sono ancora innamorata Ma non è vero Mi sta sui coglioni E se questa cena fosse per tornare assieme? Affanculo È una bella risposta Se guardi bene All'ultima pagina Forse c'è il menu bimbi Non c'è Sta controllando Sto controllando veramente Prima domanda Mi ami ancora? No Seriamente, dai No Ma neanche un po' Lascia stare il video Ormai sono un content creator Un imprenditore digitale Quindi sono obbligato a documentare tutto Questo ha fatto molto ridere Ha fatto molto molto ridere Ma dimmi Non si può dire il nome? Com'è stato? Stare con uno A cui piacevano le bambine Non andiamo a stare lontano Vabbè dai Basta Non fari ridere Qualsiasi cosa dico però Non va bene Vedi che non può funzionare Ho appena scoperto Che l'insalata Della mia ex Perché io oggi il chiamo ex Posso chiamarti ex? No ti prego È orribile No ti prego è orribile Vuoi tornare assieme? Mi ami ancora? Tutto quello Questa Per me che si chiama? Diffamazione Diffamazione Vuoi denunciarmi? Comunque L'insalata della Bambina è brutto Chiamarti così Cioè L'insalata Di Sua Si chiama Lucas Salad Oh ma te Proprio ci sei rimasta sotto Come un treno Manca a far così Sta facendo i gesti terribili Non è vero Ti sto lavorando male No no Mi hai fatto questo Mi hai fatto questo Mi hai fatto questo Terribile è questo Terribile C'è poco da ridere però C'è poco da ridere Male Qui male 3 2 1 Vai No Non racconti tutta la storia Introduci Ho ritrovato questa foto Così devo fare Sì Oggi Da chi hai 14 febbraio Ho ritrovato questa foto Nel 14 febbraio Cioè un anno fa Un anno fa Questa torta Cos'era? La torta Che era Simo Eh Chi è la Simo? La mamma del Luca La mamma del Luca La mamma del mio ex La mamma No Terribile Terribile A noi Cosa è successo? Si è morsa la lingua Si è morsa la lingua? Si è fatta male? Godo 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 Impari a lasciarmi Mi l'ho sgravata Questa cena sta Giungendo al termine Sei triste? Sì Ma quindi mi ami? No Dopo questa cena Meno di zero Prima c'era qualche opportunità Posso farci un'altra domanda? Perché ci siamo lasciati? Se non lo sai te Ricordiamo per gli amici da casa Che ci ho lasciato io Che giorno? 7 giugno E noi non ci vediamo indicativamente da 8 mesi Dimmi da 1 a 10 le possibilità che abbiamo di tornare assieme 10 No, dai, seriamente Ora? Ora come ora? 3 Dai, è 5 3 5 4 5 a metà No 50% No Ma dai E ancora innamorata di me Io lo sapevo già Io lo sapevo già D'altronde A me Non si può resistere Mi sta mandando a fare il culo Con lo sguardo? Sì, sì, sì No, ne vedo anche con i gesti Un'altra volta Non so che deve insegnarti queste brutte geste Tu? Io Oh ma Oh ma io mi ero dimenticato No, dai Io mi ero dimenticato Che oggi c'è la Lazio Bayern Ho appena guardato il risultato Stanno 1-0 per la Lazio Forza Lazio Forza Lazio Forza Lazio Ole, ole, ole Tu latiti un po' la Lazio Preferisci la magica? C'è un po' imparazzante Non conoscere la magica Roma È una mancanza di grande cultura Sei pronta? Location Menù Servizio E contro Votiamo Location 8 Io do 9 Siamo sul lago Ci sono le tovaglie Dai Bellino Io do 9 Servizio 7 4 Esageri 20 Fan casino No, no, no Male, male 4 Menù 6 7 C'è la pizza C'è l'insalata C'è i primi piatti Secondo te quanto abbiamo speso? Beh, adesso stanno a borghese No, in 4 E c'erano anche gli altri due Pago per tutti E merita testare i c***o Fammi capire Tu pensi che io pagherò il conto? Giustissimo Se voi siamo fidanzati Ti faccio un'offerta al volo Hai 5 secondi per accettare Torniamo assieme E offro la cena Sì o no? No Hai 5 secondi, pensaci 4 3 2 1 No Ha detto di sì Sono fidanzato E andiamo Siamo tornati insieme 35 è conto unico? Sì, totale Se vuoi te lo aumenti No, no, no Faccio 135 No, 35 35 va bene Ma che diritti Ate la macchina Fa freddo Dammi 17,50 euro Ma è un tuo morto Allora Ma devo e Uh Cena finita L'ho riportato da casa E adesso Tu vai a casa E io vado a casa Dai Diamo la buonanotte Cosa stanno facendo qui da? Dai vaffanculo Carina è questa Non cagare Dai, saluta lì Ciao